Si sono svolte invece venerdì 7 gennaio nella chiesa dei Santi Angeli Custodi le esecchie di Monsignor Gaetano Bortolotti, il parroco emerito deceduto il 4 gennaio. Monsignor Bortolotti aveva dedicato tutto intero il suo ministero di prete alla parrocchia degli Angeli Custodi in zona Casaralta. Aveva 93 anni ed era stato ordinato sacerdote nel 1942. Appena ordinato giunse alla Casaralta come vice parroco, assumendo poi la guida della comunità nel 1946 fino al 2004, quando per motivi di età e di salute si trasferì alla casa del clero. Pastore buono e semplice, lo ha definito Monsignor Vecchi nell'Omelia, ma dotato di uno spessore teologico e biblico non inferiore alla sua grande sensibilità liturgica, pastorale e caritativa.